I lavoratori dell'Elfoundry di Avezzano chiedono alla proprietà un atto di responsabilità nei confronti dei precari dell'azienda che lavorano alla produzione. Del loro futuro si sta discutendo in questi giorni. Va attuato un cambiamento perché la situazione è così come appare insostenibile. Il punto sostanzialmente è uno. La somministrazione può essere uno strumento utile, ma non può essere utilizzata dalle imprese per incentivare politiche di precarizzazione. Noi a Elfoundry chiediamo una regolamentazione dell'utilizzo della somministrazione, che è forse l'unico contratto che può dare una tutela alla flessibilità. Per questi lavoratori prevedere delle stabilizzazioni e quindi anche una prospettiva futura di lavoro e quindi un cambio generazionale per un'azienda che ha bisogno di nuove leve al suo interno. In questi giorni si stanno svolgendo molte assemblee che dimostrano vivacità e unità di intenti tra sindacati. A spingere sul tema, infatti, oltre alla Will Temp, anche la FIOM, CGL e la FES, CISL. I lavoratori chiedono insomma a gran voce di essere stabilizzati. Un percorso condiviso, quello che si sta tentando di mettere in campo da tutti. Lavoratori e lavoratrici diretti e somministrati con le RSU di stabilimento. Dopo le assemblee l'obiettivo è creare un tavolo dove si possa risolvere la questione del futuro di questi lavoratori. Queste assemblee sono un grande simbolo di unità sindacale dove le parti sociali tutte insieme ringraziamo le RSU che si sono messe in campo accanto ai loro colleghi somministrati per avanzare delle richieste più incisive all'azienda. Grazie. Grazie.